buongiorno a tutti ragazzi e ragazze bentornate sul mio canale tanto tempo fa vi avevo chiesto se vi interessava un video sulle creme detergenti, creme detergenti, creme per i capelli, li invien senza resciacqua mi scuso tantissimo ma appena acceso la telecamera il deficiente del mio moroso ha tirato giù lo sciacquore allora in questo momento io ne sto utilizzando 4, vi devo dire che sono 4 tipi di trattamento molto diversificati tra di loro ma hanno un filo conduttore comune come performance sui capelli nel senso che sono dei trattamenti da utilizzare prima dell'asciugatura quindi non vanno resciacquati e giustamente non vanno assolutamente ad appesantire i capelli e hanno le specifiche funzioni sul capello insomma alcuni vanno a idratare, altri a nutrire, uno è anticrespo, uno è modellante e l'altro è un prodotto rinforzante partiamo subito da un prodotto rinforzante che è sicuramente adatto per una tipologia di capello molto fine che tende a sporcarsi ed appesantirsi molto velocemente io sto utilizzando questo ma non perché ho questo tipo di capelli ma perché lo integro comunque è il siero di forza senza resciacqua al coriandolo della L'Oreal questa è la linea senza silicone, parabeni e coloranti appunto al coriandolo sono 125 ml di prodotto io credo di essere arrivata a metà boccetta è molto carina, la potete trovare in grande distribuzione anche se mi viene il dubbio che stanno togliendo questa linea o lo stanno riformulando comunque se lo trovate vi consiglio di acquistarlo la pipetta funziona benissimo e ha questa texture acquosa e lattiginosa è molto molto leggero non è per niente ricco di oli quindi è assolutamente adatto per una tipologia di capelli appunto che tende a sporcarsi, ad appesantirsi, ad appietirsi io lo utilizzo perché non vedo questo aspetto rinforzante per quanto riguarda le lunghezze ma noto che ha un potere molto districcante sui capelli senza essere cremoso, senza essere pesante quando utilizzo magari un balsamo o una maschera che non mi è soddisfa in toto o comunque sto passando un periodo quando i miei capelli si infrogliano con niente anche con il turbante prima dell'asciugatura per non prendere in mano il pettine io utilizzo questo prodotto ci metto 4-5 pusciate quindi ragazza si può anche abbondare tranquillamente senza aver paura che i capelli si sporchino e ha questo effetto districcante immediato ha un profumo molto molto fresco vi va a lisciare la fibra capillare e ve la va a districcare molto molto bene quando vado ad asciugare i capelli noto proprio i capelli più lucidi, più leggeri perché è quasi rinfrescante quasi come se avesse un effetto di leggerezza sulle lunghezze e mi mantiene proprio i capelli districati anche dopo l'asciugatura quindi non si annodano durante l'asciugatura e neanche post asciugatura non ho i capelli crespi, non ho i capelli elettrici che svolazzano devo dire che è un ottimo prodotto leggero perché si può utilizzare sia in estate quando non utilizzate il phon e magari non volete neanche utilizzare un balsamo perché avete i capelli talmente fini, talmente delicati utilizzate questo e si districano facilmente con le dita senza andare ad operare un pettine che magari potrebbe essere più stressante io l'ho interpretata così la dicitura siero di forza perché alla fine della fiera ragazze un prodotto non può andare a riforzare una fibra morta al massimo bisogna rafforzare proprio dalla cute che lì ci vanno di mezzo gli integratori per bocca o dei trattamenti o degli impacchi quello che volete comunque andiamo a lavorare sul bulbo vivo effettivo che va rafforzato non sulle lunghezze che sono comunque una fibra morta questo invece vi evita di andare a spezzare magari i capelli durante la procedura col pettine o anche solo con le mani e le dita quando andate ad asciugare io non so come vi asciugate voi i capelli io non utilizzo mai la spazzola perché non faccio la piega però quando le asciugo ovviamente ci passo spesso le dita e devo dire che col tempo ho notato che mi si spezzano meno i capelli proprio perché ha questa azione molto molto ammorbidente quindi se avete una tipologia di capello che è difficile da gestire proprio per quanto riguarda la sua texture che si appesantisce e si sporca subito questo è quello più leggero che ho come texture il secondo prodotto anche questo lo sto utilizzando come multifunzione è questa crema modellante capelli ricci di Vrochet al cocco e semi di lino potrebbe sembrare pesante ma in realtà è un prodotto adattissimo anche per i capelli lisci perché io non ho i capelli ricci non ho i capelli mossi magari questo è il mio sogno più grande purtroppo non ce l'ho ho tanti capelli sono abbastanza spessi sono molto molto lunghi ovviamente io li tengo raccolti perché sto in casa ragazzi stare con i capelli sciolti stare sul divano sempre appoggiata si sporcano anche se ho i capelli adesso aridi secchissime che si sporcano veramente difficilmente ma anche prima però li tengo raccolti proprio per una questione perché mi dà fastidio che poi i capelli mi si infilano dappertutto non devo fare la figa in casa questo è un prodotto che mi piace molto perché lo adopero molto quando mi faccio le trecce sapete che è il mio sogno come vi ho detto poc'anzi è avere i capelli mossi morbidi molto elastici purtroppo il mio capello si rifiuta assolutamente ad essere modellato con la piastra con la riccia capelli con la piega con la permanente perché avevo fatto anche la permanente l'anno scorso mi è durato un mese invece che sei faccio le trecce quindi io faccio le trecce applico questo prodotto sui capelli tamponati prima di asciugare e poi quando mi faccio la treccia spincio un paio di pusciate e lo applico proprio sulla treccia per modellare bene questa è una crema molto leggera anche se è molto cremosa è bella idratante ma non grassa non va a sporcare assolutamente il capello non ve lo va ad appesantire non vi crea assolutamente l'effetto tipo bagnato sporco unto che creano tantissime creme senza risciacquo e mi rendono i capelli molto morbidi districati elastici quando faccio la treccia noto proprio che ho quelle belle onde ma sono morbide non sono elettrizzate non sono appesantite non sono sporche e mi durano nel tempo quindi io lo posso utilizzare anche magari quando faccio la cipolla se voglio il capello mosso più tardi metto qualche spinciata di prodotto lo vado a tamponare si asciuga in un istante e va effettivamente a dare quella elasticità al capello quella idratazione che li rende appunto morbidi li rende più docili è un prodotto che mi piace non so come si potrebbe comportare sui capelli più grossi dei miei più ricci dei miei perché già con la mia tipologia di capelli è fantastico secondo me per un capello molto più grosso che ha bisogno proprio di sostegno diventerebbe un po' poco secondo me poi non lo so questo per esempio è un prodotto che non so neanche come si potrebbe comportare su un capello estremamente sottile perché è vero che non vado a pesantire ma questo è già come texture un po' più densa un po' più corposa rispetto all'altro in ogni caso mi piace moltissimo secondo me si potrebbe utilizzare tranquillamente anche come balsamo risciacquo si potrebbe utilizzare come impacco pre shampoo io lo utilizzerei anche tipo in spiaggia per tenere i capelli morbidi e protetti perché appunto semi di lino e l'olio di cocco svolgono già un'azione protettiva anche contro i raggi UV costicchia ma ragazze è dura perché sono 150 ml di prodotto eppure avendo i capelli che hanno coperto ormai quasi al sedere adesso l'ho sballottolata ma sono qui io la utilizzo e mi piace parecchio se invece cercate una via di mezzo tra leggero e corposo io sto utilizzando con gradissima soddisfazione il termoprotettore di FITOM questo è un termoprotettore che all'interno contiene chiaratina acido ialuronico e violetta del pensiero 150 ml di prodotto qua ci spostiamo diciamo su una fascia da farmacia questo è un prodotto monomarca e questo da supermercato ma non temete perché c'è un'altra chicca da supermercato facilmente reperibile è un prodotto di cui vi ho già parlato perché lo trovo fantastico l'avevo acquistato in un momento di disperazione per quanto riguarda il mio stato d'animo i miei capelli stavo passando un periodo che non riuscivo a trovare pace con niente e poi l'ho visto in offerta fitolo sempre snobbato e mi piaceva ancora meno perché utilizzando il suo integratore per i capelli cioè ragazzi non ce la faccio puzza di pesce ma un odore che mi viene da vomitare anche se funziona lo sospeso perché non ce la faccio avevo acquistato questo prodotto perché appunto era in sconto mi piace moltissimo perché è un termoprotettore in crema super mega iper districante per nulla pesante ne bastano poche pusciate io vado in testa in giù con i capelli belli tamponati passo quasi dalla cute e non mi va assolutamente a sporcare i capelli anzi mi lascia i capelli belli morbidi belli districati belli docili per nulla crespi e vedo proprio le punte più definite ecco spesso sento dire che i capelli lunghi dopo un po' vanno tagliati perché le doppie punte vengono nonostante uno si prende cura bla 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 non è vero io ragazze ho i capelli lunghissimi io non ho neanche una doppia punta io dal parrucchiere ci vado una volta ogni 5 anni per fare i tagli drastici ho i capelli lunghi meravigliosi perché quando li tengo sciolti ragazzi quando passo le persone mi guardano sempre la chioma e vi assicuro che se li curate in maniera giusta con i prodotti giusti e con accorgimenti giusti non vi verranno le doppie punte anche a voi è vero che io non utilizzo le piastre però il fond si questo è un ottimo prodotto non appesantisce assolutamente i capelli mi lascia i capelli molto docili lisci setosi come una seta ne basta veramente è poco prodotto quindi anche in questo caso il prezzo si ammortizza tantissimo nel tempo io ve lo consiglio soprattutto perché all'interno c'è la chiaratina che comunque fa molto bene al capello e anche l'acido ialuronico che in teoria poi non so come si comporta sui capelli perché sulla pelle trattiene l'idratazione probabilmente ha la stessa funzione anche sui capelli quindi non vi fa quell'effetto stop tra un lavaggio e l'altro perché si i capelli sono meravigliosi magari i primi due giorni il terzo giorno comincia già a scemare no io ho sempre avuto i capelli e le lunghezze perfette quando utilizzo questo prodotto e anche quando utilizzo questo tutti questi prodotti che vi sto mostrando sono ottimi si comportano benissimo sui miei capelli questo ve lo consiglio perché secondo me è sì un trattamento termoprotettore ma anche curativo si prende più cura vi dà più coccole anche per quanto riguarda le lunghezze che possiamo curare tantissimo con le maschere ma non è sempre detto che la maschera vi può prolungare il suo effetto a me capita molto spesso che il primo giorno i capelli bellissimi il giorno dopo i capelli secchi proprio le lunghezze quindi questo vi aiuta anche a mantenere quell'idratazione quella bellezza che vi serve alle lunghezze consigliato anche questo non unge non appesantisce secondo me è ottimo per tutte le tipologie dei capelli questa però non è assolutamente una crema modellante è semplicemente un trattamento termoprotettore che vi dà anche un po' di idratazione e lucentezza proprio grazie alla queratina l'ultimo prodotto che vi mostro è un prodotto da supermercato che ho già utilizzato un'altra versione ho ricomprato questa e la sto utilizzando è il balsamo maschera trattamento 100% essenza di origine naturale con latte di mandorla e bacchi di acai per capelli secchi e sfibrati di antica erboristeria io questa linea l'avevo scoperta quest'estate solo che quella è il frutto della passione latte di riso se non sbaglio una cosa del genere e mi sono flashata completamente con questo prodotto non questa profumazione ma con questa tipologia di prodotto è vero che sul mercato esiste la famosissima Air Food che personalmente a me fa cagare ragazze io ho provato due versioni è due su due no che anche quella vi fa da balsamo da maschera e da prodotto Livin costa 4 euro e qualcosa questa invece ha 200 ml di prodotto e costa 1 euro e 50 ottimo inch anche questa quindi tanto di cappello per antica erboristeria ma credo che questo prodotto abbia una miglior formulazione per l'utilizzo come trattamento post shampoo rispetto agli Air Food perché è vero che a me non piacciono però gli Air Food su tantissime persone funzionano benissimo come maschera e come balsamo invece questa come maschera e balsamo è un po' meno rispetto a tutti gli altri prodotti che possiamo trovare al supermercato ma come prodotto post shampoo è fantastico perché è cremoso ma non troppo è ricco ma non troppo si assorbe facilmente il capello praticamente lo beve questa in particolare ha una profumazione dolcissima e se avete bisogno di una crema idratante per i capelli perché i vostri capelli magari soffrono molto il caldo e molto il freddo che si increspano che si aprono che si seccano particolarmente e avete una fibra capillare che vi permette di utilizzare questa tipologia di prodotto io vi consiglio comunque questo prodotto rispetto agli Airfood perché costano poco funzionano benissimo perché sono iperleggere come texture e funzionano alla grande questo mi va subito a districare i capelli quindi a volte io lavo i capelli magari non vuole utilizzare balsamo i maschere perché sono di fretta applico questo ci passo le dita si districano subito il capello lo beve e poi quando asciugo i capelli ho i capelli morbidissimi come una seta ma veramente profumatissimi morbidissimi per nulla appesantiti leggeri luminosi è un ottimo prodotto post shampoo infatti io non lo utilizzo mai come balsamo anche se l'altra versione l'ho provata sia come balsamo sia come maschera vi posso dire che funzionano bene come maschere ammorbidenti quindi se avete un cappello particolarmente arido e rigido queste sono quelle tipologie di maschere che proprio vi donano una morbidezza estrema per questo mi piace utilizzare lo post shampoo perché mi dà quella sensazione di capelli morbidi e leggeri visto che ho comunque i capelli molto lunghi noto proprio questa differenza di leggerezza e di morbidezza non mi vanno assolutamente a increspare i capelli anche se io non soffro di questa problematica non ho i capelli crespi questo è un ottimo prodotto ve lo consiglio costa poco da supermercato ha un buon inci non è pesante all'interno troviamo l'olio di mandorle dolci burro di karité l'estratto di avena l'estratto di oliva comunque è un prodotto ricco ma perfettamente bilanciato non troppo burroso non troppo olioso e non troppo acquoso è un mix perfetto quindi ve lo consiglio io in questo momento ho questa profumazione latte di mandorle bacche di assai che dice capelli secchi sfibrati ma non è così nutriente ecco secondo me la dicitura l'hanno messa un po' così perché è un prodotto che si può utilizzare anche come maschera come maschera e balsamo lascia un po' tempo che trova almeno che voi non cercate un prodotto ammorbidente ma come un prodotto post shampoo è fantastico e niente ragazzi queste sono state le mie 4 creme per i capelli spero di esservi stata utile fatemi sapere se anche voi utilizzate questa tipologia di prodotto e se avete appunto da consigliarmi una crema per i capelli perché io oltre ad essere fissata con il viso il corpo amo anche le creme per i capelli ebbene sì alla prossima ciao ciao